Mi trovo a Perito in occasione dell'incontro sul bullismo organizzato dal Comune di Perito stesso ed incontriamo la Presidente della Croce Rossa in sede di Agropoli, Giovanni Impante, in merito ad una progettualità che a livello nazionale tale associazione sta portando avanti. Buonasera, stasera sono orgogliosa di aver partecipato a questo evento. Ringrazio l'amministrazione che ha fatto un lavoro eccellente, ha messo insieme tutte forze politiche, istituzioni e associazione e l'ha fatto molto bene, con i ragazzi veramente un'emozione unica. La Croce Rossa e il bullismo, abbiamo dei progetti pilota che sono partiti già a Roma dove i nostri volontari entrano nelle scuole e innanzitutto per l'integrazione, per affrontare queste problematiche e per avere il dialogo, ci deve essere il dialogo. I giovani ormai non parlano più, non esiste più per loro la parola umanità, il rispetto della persona. Quindi queste parole hanno fatto posto all'emarginazione, alla discriminazione, ai pregiudizi. Dobbiamo abbattere queste barriere. La Croce Rossa c'è, è su tutto il territorio del Cilento. Noi ci siamo, vogliamo, pretendiamo ad entrare nelle scuole e stare accanto ai ragazzi. Abbiamo un'area giovane e quindi abbattiamo anche le differenze generazionali. Noi ci siamo, noi ci siamo sempre. Grazie. Grazie.